salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà gabriele mistrangelo con esopo 2000 un salto nel passato con la saggezza del presente gli animali sempre come protagonisti di questo libro di favole moderne atteggiamenti modi di fare etica attuale e vizi contemporanei gli animali di esopo 2000 sono lo specchio delle strutture e delle virtù di un'umanità che si confronta con se stessa attraverso l'intelligente uso della favola gabriele mistrangelo è nato a milano il 21 luglio del 1987 ha conseguito la maturità classica e successivamente si è iscritto alla facoltà di lingua e letterature straniere senza tuttavia aggiungere alla laurea adesso vi leggerò un brano tratto dalle pagine della sua opera il cinghiale e il ciucco un cinghiale che se ne andava sfaccendato per il bosco scorse di lontano un ciucco che si abbeverava un ruscello giunto alle sue spalle gli intimò di voltarsi ma quello seguito a bere tranquillamente lo chiamò quindi una seconda volta ma ancora non ottenne risposta convintosi che quello non gli rispondesse per timore prese a deriderlo dicendo ehi festacchiotto hai perduto la lingua forse e seguito così per qualche momento infine il ciucco ormai stanco di essere importunato sferrò un gran calcio che rovinò dritto sul muso del suino mettendolo a tacere beh non hai più nulla da dire ora gli chiese ironicamente mentre quello gemeva per il dolore la favola insegna che anche le persone più miti se provocate possono diventare pericolose la vacca che veniva munta troppo spesso un uomo padrone di una vacca che forniva del latte di ottima qualità se ne vantò un giorno con il vicino questi troppo scansafatiche per allevarne una propria e tuttavia bramoso di godere di quel latte tanto prelibato prese l'abitudine di mungerla furtivamente durante la notte i primi tempi nessuno si accorse di nulla la povera vacca munta troppo spesso e ricevendo sempre la medesima razione di biada deperì si ammalò e infine morì lasciando senza alimento entrambi i mungitori la favola è adatta per coloro che sfruttano indebitamente i beni altrui il fiammifero è il bicchiere di terracotta un fiammifero si trovò un giorno a passare vicino a un bicchiere di terracotta questi che era di indole malvagia incominciò a stuzzicarlo sostenendo che gracile com'era non sarebbe mai riuscito a spostarlo per tutta risposta il fiammifero raccolse la sfida iniziò a colpirlo violentemente con la testa cercando di smuoverlo ma ogni tentativo gli riusciva inutile prese quindi a colpirlo con maggior vigore ma ancora non riusciva nel suo intento infine lo percosse con tutta la forza che aveva in corpo e senza che se ne rendesse conto a causa dell'attrito continuo si infiammò e morì bene spero di essere riuscita a incuriosirvi se deciderete di tuffarvi fra le pagine di esopo 2000 di gabriele mistrangelo buona lettura ci vediamo presto con un nuovo episodio